Urla al GF VIP, donna Maria e il gesto fa piangere la Fiordelisi la regia censura tutto. Roma provarci sempre, arrendersi mai. Deve essere questo il motto di Edoardo Donna Maria che dopo essere stato squalificato dal GF. È tornato dai suoi ex coinquilini. Mumito di megafono, si è nuovamente presentato a ridosso della casa del grande fratello per gridare tutto il suo amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi. L'incursione inaspettata e i coinquilini hanno avuto modo di riconoscere la voce di Edoardo. Tanto da chiamare immediatamente Antonella Fiordelisi. Ma a quel punto, gli autori hanno cercato in tutti i modi di oscurare quanto stava accadendo fuori dalla casa. Prima inviando musica a tutto volume per coprire la voce di Edoardo che arrivava da fuori. E poi staccando definitivamente l'audio per diversi secondi per nascondere la sua intrusione. Le parole di Edoardo l'ex coinquilino ha comunque raggiunto il proprio scopo. Inviando un chiaro messaggio alla fidanzata Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi. La reazione della Fiordelisi non si è fatta attendere, amore ti amo ha gridato la concorrente. Apparsa visibilmente commossa dal gesto del fidanzato. Virgola.